Sì, questo si chiama Chuck ed è per quello che si dice Chuck si gira e molte persone hanno chiesto a che cosa servisse e quindi ho intenzione di rispondervi ovviamente quando si faceva un film in pellicola la primissima cosa che si vedeva all'interno della bobina di pellicola era la primissima cosa che era stata filmata un po' come le anteprime di oggi e quindi era abbastanza intelligente mettere come prima immagine tutte le informazioni sulla scena in modo da capire quale fosse perché ogni scena veniva rifatta più volte e il regista poteva finire col dirti ok a me sono piaciute le scene 52 e 56 e tu teneti quelle questo perché ogni scena poteva essere fatta anche più volte quindi ci potevano essere centinaia di copie della stessa scena e avere un indicatore che ti facesse capire che ok questa scena è quella, questa scena è quell'altra poteva essere molto d'aiuto ma la vera domanda è appunto il Chuck a che cosa serve? no, non è per far capire a tutti quanti che il film sta per iniziare perché no, quello si capisce quando il regista urla che si gira il Chuck serve per il sonoro non credo che ci sia bisogno di dirvi che le cose non funzionano come i cellulari generalmente nei video con una qualità decente quindi non questo in particolare l'audio e il video sono registrati separatamente l'audio con un registratore ad altissima definizione e il video con una cinepresa ad altissima definizione perché dopo tutto non tutte le attrezzature possono essere perfette per ogni scopo e se all'inizio della scena e fare questo rumore all'inizio di ogni scena permetteva di avere un rumore secco e molto definito che si sentisse perfettamente nella registrazione audio della cinepresa una registrazione audio fatta molto molto male come quella di tutte le cineprese e lo stesso identico suono nella registrazione del registratore e quindi bastava far combaciare questo rumore che era perfettamente identico su ogni traccia e automaticamente il labiale andava perfettamente a posto e i movimenti di tutte le labbra corrispondevano con il suono che si sarebbe dovuto sentire piuttosto che lavorare per ore per far coincidere il labiale con la parte registrata spero che con questa brevissima spiegazione io vi sia stato in qualche modo d'aiuto e beh se avete domande sul cinema cose che vi siete sempre chiesti e non avete mai capito perché si facciano o perché siano così chiedetemelo nei commenti oppure potete sempre farlo sui miei profili Instagram o Facebook o qualsiasi altra cosa voi vogliate tanto le trovate in descrizione grazie